Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo tutorial di spiego come aumentare gli FPS su Fortnite grazie a tanti metodi che farò vedere nel video grazie anche a NVIDIA Profile Inspector grazie anche a GeForce Experience e soprattutto anche alle impostazioni grafiche su PC ovviamente cominciamo prima dal sistema schermo grafico, tipo se scrivi qua sopra impostazioni grafica entri qua sopra, vai su sfoglia, vai sul tuo volume e vai a cercare così la cartella di Fortnite Fortnite Game, Inelis, M64, scendi fino a giù fino a trovare Fortnite Launcher una volta avviato il Fortnite Launcher scendi fino a giù fino a trovare così Fortnite prestazioni elevate, opzioni, prestazioni elevate su Fortnite quindi metti salva e chiudi qua una volta fatto qua andiamo direttamente su GeForce Experience per quelli che hanno NVIDIA sapranno cos'è questo programma, è un driver per aggiornare la propria scheda video e regolare così le impostazioni sui giochi come puoi vedere GeForce Experience lo troverai sotto al video quindi link in descrizione, ci clicchi sopra scarichi così il setup, lo installi e troverai così questo pannello vai su driver, vedi se devi fare qualche aggiornamento quindi cerca aggiornamenti oppure su home scendi fino a giù fino a trovare Fortnite e vai su dettagli come puoi vedere possiamo ottimizzarlo e scegliere noi stessi come impostare la grafica o prestazioni o qualità per quelli che hanno un PC più di 2000 euro e vogliono godersi Fortnite al meglio puoi anche mettere la qualità ti puoi godere Fortnite più di 100 FPS però per quelli che vogliono fare un sacco ma veramente un sacco di FPS vai su prestazioni e fai applica come puoi vedere gli effetti, la distanza di visualizzazione illuminazione globale, limite, frequenza fotogrammi illimitata come puoi vedere tutto disattivato, vicino grafica un po' come dire scadente però cercheremo di renderizzare di più Fortnite come puoi vedere risoluzione 3D quindi è ben renderizzato quindi vedrai bene i Fortnite però tipo gli alberi invece di vederli molto molto belli li vedrai tipo come delle sagome di uno scatolone come delle sagome oppure come pixelato come su Minecraft texture basse v-sync disattivato così facendo non metteremo fisso gli FPS una volta fatto chiudi così il GeForce Experience e passiamo direttamente a Nvidia Profile Inspector su Google ti ho lasciato un link quindi media file in descrizione media file nvidia profile inspector punto zip estrai così questo pacchetto RAR con WinRAR e all'interno del pacchetto RAR troverai il programmino già preinstallato ci clicchi sopra e troverai Nvidia Profile Inspector ci clicchi sopra qui e vai a scrivere Fortnite troverai al 100% Fortnite che si collega proprio alle cartelle dal percorso file del tuo Fortnite Fortnite client win64shipping.exe eccolo qua scendi fino a giù fino a trovare l'anti-aliasing questo qua trasparenzi supersembling questo qua metti il 0 per quello che finisce per 8 doppia mod replay scendi fino a giù fino a trovare la texture filtering driver controlling questo qua metti on e texture filtering metti più questo per abbassare sempre ma sempre di più la grafica mettiamolo sul più 0.8750 e anche qua se in questo caso non ti piace proprio la grafica che trasformerà così Fortnite grazie a questo programmino puoi sempre fare su restore oppure ripristinando così Fortnite tipo facendo la verifica sul gioco tre puntini gestisci e fai direttamente la verifica al gioco per ripristinare tutte le tue le tue impostazioni grafiche una volta fatto texture filtering quality metti performance texture filtering metti su hello questo e hai fatto e applichi così i cambiamenti su Fortnite una volta fatto chiudi così questo pannello e andiamo direttamente su Fortnite a fare varie modifiche sul gioco una volta fatto andiamo direttamente sulle impostazioni di Fortnite quindi in questo caso impostazioni ed eccolo qua video schermo intero risoluzione se abbassi così la risoluzione fare più fps v-sync no limite frame rate illimitata modalità di rendering direct x11 scendi fino a giù fino a trovare il motion blue no qualità grafica pre impostazioni qualità metti ridotto vai applica l'antiagliosing super risoluzione questa metti su no risoluzione 3D mi raccomando il rendering deve essere alto se hai problemi con il rendering puoi sempre abbassarlo te lo consiglio sul 75 e fai applica ombre togli illuminazione globale togli riflessi no distanza visuale vicino texture mettilo su medio fai applica post processing ridotto effetti ridotto mostra fps mostra gli fps durante il gioco indicatore di latenza mostralo invidia reflex e bassa latenza mette on più boost e finisce qua quindi in questo caso vedrai forte come puoi vedere la texture del personaggio è molto cambiata come puoi vedere gli occhi del personaggio sembrano molto sfogati regati con un quadratini sotto all'occhio non è neanche ben renderizzato quindi stessa cosa sarà la grafica sul gioco come ho detto se hai problemi con la grafica poi puoi sempre fare restore quindi fai direttamente il restore sul nvidia profile e spectro oppure fai direttamente la verifica al gioco quindi farà anche un ripristino a fortnite se non dovesse bastare vai direttamente su esegui percento app data percento questo è per ripristinare tutto da capo vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di fortnite tu cancelli così la cartella di fortnite farà un ripristino di fortnite chiudi qua e potrai fare la verifica al gioco quindi la verifica al gioco si fa qua sopra libreria tre puntini e c'è scritto proprio la verifica quindi se questo video è stato utilissimo come aumentare i fps su fortnite riducendo così la grafica grazie alle impostazioni di nvidia iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao